quest'anno sono tornato un po più buono anche perché di cattivo ne basta uno ed è nevard il mio clone cattivo che si è alleato insieme ai suoi mostri al suo inseparabile dragone per dare battaglia al team delle hot wheels ma io insieme ad elliot riuscirò a sconfiggerlo grazie